eccoci collegati buon pomeriggio a tutti benvenuti a questo webinar mensile organizzato in collaborazione con Exan e quindi do immediatamente il mio benvenuto ad Antonio Manfrè in collegamento ciao Antonio ciao Pierpaolo buonasera a tutti bene oggi siamo per ora entrambi in video poi fra poco eh ci staccheremo per fare in modo che non ci siano problemi di audio nel frattempo naturalmente diamo il benvenuto a coloro che stanno scrivendo e anche coloro che non scrivono naturalmente che sono già collegati e quelli che ci raggiungeranno via via nei prossimi minuti vi ricordo che questo webinar appartiene a un ciclo eh che ormai prosegue da diverso tempo e quindi è una è un bellissimo appuntamento è un'abitudine che ci portiamo dietro e che chiaramente contiamo di eh portare avanti ancora per lungo tempo perché poi Antonio devo dire che è diventato un momento di incontro sempre molto numeroso e anche con tante domande no? Quindi insomma sì sì sicuramente un'occasione un'occasione come dire abbastanza importante per poter per poterci per poter dialogare tra di noi e anche chiaramente con con gli investitori con i consulenti e chi comunque ha piacere a a partecipare i nostri ai nostri webinar. Ecco a tal proposito naturalmente ricordo dal momento che ci sono sempre nuove persone quindi persone che si avvicinano a questo mondo eh settimana dopo settimana vi ricordo che eh è possibile interagire direttamente con noi con il pannello che è sulla destra del vostro monitor c'è un riquadro proprio per le domande quindi potete scrivere e naturalmente cercheremo di fare più o meno come sempre ovvero rispondere a tutti. Eh il webinar è in fase di registrazione quindi già domani lo troverete a disposizione sul nostro canale Telegram e con questo come al solito ho esaurito la parte iniziale che dà modo anche ai ritardatari di di collegarsi e quindi di essere in nostra compagnia senza perdere nulla che riguarda i prodotti. Ecco oggi con Antonio naturalmente vedremo le novità di casa Exan e quindi ehm è vero che ci siamo incontrati non tantissimo tempo fa in occasione eh del dell'ultimo evento ehm che ora mi sfugge che occasione era? Esatto investi in Roma del venticinque settembre eh ricordavo di esserci visti collegati ma non ricordavo dove quindi venticinque settembre e quindi non è passato molto tempo però ecco da quel momento è continuata l'attività di emissione e da parte di Exan quindi torneremo a parlare di certificati in particolare certificati con MaxiCoupon e poi delle situazioni selezionate anche dal nostro ufficio studi. Nel frattempo se volete appunto segnalare qualche Isin di cui possiamo parlare fatelo Maurizio ha già scritto qualcosa a proposito di un certificato eh che dopo ti girerò Antonio così magari potremo andare a vederlo assieme. Per quello che riguarda i mercati ci colleghiamo sempre appena eh insomma chiusura mercati quindi un passaggio molto veloce ancora una giornata molto eh positiva ehm anche se sta un po' perdendo forza eh rispetto all'apertura quell'America ehm questo però non ci ha impedito comunque di chiudere in Europa ancora con dei buoni numeri come vedete con risultati positivi sempre nell'ordine dello zero sette un per cento insomma continua questa fase tutto sommato di ottimismo soprattutto da parte degli investitori americani che continuano a vedere con appunto ottimismo la conclusione della delle trattative tra eh il governo e in particolare dall'altra parte la rappresentante della della camera quindi Nancy Pelosi ehm a proposito del pacchetto di stimoli fiscali che dovrebbe dare ancora un nuovo impulso alla ai mercati ovviamente insomma ci siamo abituati in questa fase eh a queste continue iniezioni e queste necessità da parte del mercato di essere aiutato per proseguire in questa eh battaglia contro il covid anche da un punto di vista economico eh io non eh non ho diciamo così intenzione di andare avanti a lungo con queste chiacchiere perché nel frattempo siamo ormai già eh tantissimi e pertanto io non perderei altro tempo e e ti lascio immediatamente il monitor Antonio perché così tu puoi condividere direttamente il tuo schermo e iniziare a parlare delle ultime novità dopodiché anche Michele ci ha raggiunti e eh ha chiesto un un consiglio su un certificato ecco voi nel frattempo scrivete io mentre Antonio presenta inizierò a guardarli e poi girerò naturalmente ad Antonio Manfred. Bene possiamo possiamo partire. Ok perfetto riuscite riuscite a vedere il mio schermo? Mi confermi? Allora stacco un attimo la 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 webcam perfetto così mostriamo questo e eccoci. Allora come come anticipava Pierpaolo in 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 apertura oggi andremo andremo a presentare una nuova oddio non tanto nuova perché di fatto un po' la combinazione di eh di di alcuni effetti già presenti in altri in altri certificato in altri certificati ma si tratta di nuove emissioni che sono sono giunte sul sul mercato italiano da da qualche da qualche giorno e in particolar modo si tratta dei crescendo triathlon maxi cedola quindi già dal nome si si evincono un po' le caratteristiche le caratteristiche più particolari di questi di questi prodotti che sono appunto l'effetto triathlon e l'ormai direi nota eh maxi cedola quindi andiamo andiamo a guardarli un po' più nel dettaglio nel loro nel loro nel loro meccanismo di eh di funzionamento e e andiamo a vedere che il prodotto questi prodotti che poi andremo andiamo ad analizzare poi con con degli Isin sono sono due eh diciamo le nuove le nuove emissioni eh si caratterizzano per diciamo hanno una come se avessero una doppia vita nella prima fase del prodotto quindi eh a dicembre eh di eh di quest'anno eh è presente la possibilità dunque di incassare una maxi cedola condizionata legata al basket worst off sottostante quindi parliamo di un basket worst off composto da da tre titoli a condizione che i tre titoli eh o il basket worst o il titolo peggiore tra tra questi tre sia superiore alla barriera maxi cedola che andremo a vedere tra breve tra breve che posta al trenta per cento del livello iniziale quindi significa fino a meno settanta per cento di ribassi sul titolo sul titolo peggiore eh maxi cedola che qualora malauguratamente non 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 dovesse verificare la condizione a dicembre eh non non pagherebbe non pagherebbe l'importo eh si tratta chiaramente di una condizione in un certo senso abbastanza abbastanza conservativa eh ponendo appunto una barriera su un livello eh così eh così basso. L'aspetto diciamo eh particolare è eh è legato al funzionamento delle cedole mensili successive alla maxi cedola e qui inizia appunto la seconda eh chiamiamola la seconda vita del del prodotto. Infatti a partire da gennaio della dell'anno prossimo quindi gennaio duemila duemila ventuno eh il prodotto offrirà delle cedole mensili con un effetto particolare che si chiama effetto triathlon. Che cos'è l'effetto triathlon? Di fatto l'effetto triathlon elimina in un certo senso il il rischio di correlazione sul sul coupon o quantomeno lo lo attenua notevolmente. In che senso? Nel senso che il coupon corrisposto dal mese per mese dipenderà dal numero di sottostanti che si trovano al di sopra della barriera. Quindi in buona sostanza viene assegnato un coupon per azione e in base a quante azioni si trovano sopra la barriera verrà calcolato e quindi corrisposto il a il il relativo coupon. Chiaramente adesso con gli esempi diciamo concreti sugli eh dovrebbe risultare più eh più chiaro il il concetto. Cedola che anticipo sulle diciamo sulle singole parti quindi sul coupon per azione non presenta l'effetto memoria. Come diciamo ormai noto e in un certo senso standard per questa per questa tipologia di eh di prodotti a partire da aprile dell'anno dell'anno prossimo, d'aprile duemila e ventuno è prevista la possibilità l'opzione autocall quindi la possibilità di essere rimborsati anticipatamente in questo caso è legata al basket worst off quindi occorre che tutti e tre i titoli si trovino al di sopra del loro livello iniziale quindi la barriera è posta al cento per cento dello strike quindi il livello iniziale coincide anche con il trigger o comunque con il livello che fa scattare che fa scattare l'autocall e in quel caso appunto si riceverà il valore nominale del certificato quindi mille euro eh più chiaramente l'ultima l'ultima cedola triathlon che in questo scenario chiaramente viene corrisposta in maniera in maniera piena. Qualora non dovesse non si dovesse arrivare al al rimborso al rimborso anticipato e quindi nelle varie osservazioni mensili o almeno un sottostante si trova sotto sotto il livello sotto il livello iniziale il prodotto non va in autocall ma continua fino alla scadenza naturale la scadenza del di questi prodotti è fissata in tre anni e alla scadenza che cosa succede? Eh succede che c'è una protezione condizionata del capitale quindi anche qui eh ormai caratteristica abbastanza nota i più come dire ai veterani del del mondo del dei certificati quindi una barriera di tipo europeo tale per cui se tutti i sottostanti o il worst off eh ribadisco è la stessa la stessa cosa si troveranno al di sopra della barriera della barriera di protezione del capitale verrà corrisposto il valore nominale per cui i mille euro in caso contrario anche qui diciamo che eh comanda il worst off quindi nel caso in cui me ne basta chiaramente uno eh di sottostante dovesse trovarsi al di sotto della barriera si riceverà appunto un un importo commisurato al suo andamento e quindi con una performance calcolata rispetto al livello iniziale quindi se supponiamo una barriera al eh 65 per cento se il peggiore dovesse perdere il che significa protezione fino a meno trentacinque se il peggiore dovesse perdere il 40 per cento e quindi trovarsi al di sotto il rimborso corrisposto sarà pari a 60 per cento del valore nominale ovvero 600 euro quindi questo il meccanismo di funzionamento di questi prodotti quindi ripetiamo una maxi cedola iniziale legata al basket worst off delle cedole periodiche mensili con effetto triathlon quindi con un coupon commisurato al numero di sottostanti superiori alla barriera la possibilità di autocall a partire da aprile dell'anno prossimo e la protezione la barriera di protezione europea a scadenza la scadenza è pari ai tre anni per i prodotti che andiamo a vedere a brevissimo quindi in questa in questa tabella e magari adesso ci spostiamo sul sul nostro sito per andarli per andarli a vedere più più nel dettaglio trovate appunto le emissioni che sono arrivate appunto recentissimamente sul 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 mercato come vi anticipavo si tratta di due prodotti che hanno la stessa scadenza quindi ottobre 2023 quindi data di scadenza 4 ottobre 2000 2023 presentano appunto una maxi cedola una maxi cedola condizionata il coupon con l'effetto triathlon l'autocall e la protezione condizionata a scadenza il primo prodotto che trovate in tabella è scritto sul basket worst off composto da ng nvidia e repsol quindi qui parliamo di un basket anche abbastanza in un certo senso settori diversi e e potenzialmente anche una correlazione molto molto bassa tra i tra i titoli nella quarta colonna trovate i livelli iniziali questo prodotto al dicembre 2020 in particolar modo con data di osservazione 7 dicembre eh 2020 eh osserverà e sperabilmente pagherà una cedola del 12,5 per cento quindi 125 euro per prodotto come vi anticipavo la barriera è posta al 30 per cento del livello iniziale che vuol dire fino a una perdita del 70 per cento del basket del basket worst off dopodiché il prodotto come vi dicevo da gennaio 2021 prosegue con delle cedole periodiche mensili con l'effetto triathlon quindi vi parlavo di coupon per azione in questo caso parliamo di uno 0 15 per sottostante quindi per azione che fa un rendimento massimo su base mensile dello 0 45 quindi se tutti e tre si trovassero sopra la barriera posta al 65 per cento la cedola sarebbe pari allo 0 qui allo 0 15 allo 0 45 se ve ne fossero soltanto due di titoli la cedola sarebbe pari allo 0 30 0 15 per due solo un titolo 0 15 nessun titolo e quello è l'unico caso in cui non viene corrisposto alcuna forma di coupon e il caso in cui tutti e tre si troveranno al di sotto del 65 per cento quindi perdita superiore al 35 per cento e ripeto questa cedola questa tipologia di cedola non presenta l'effetto l'effetto memoria quindi i pezzettini di cedola o la cedola piena nello scenario in cui tutti e tre abbiano perso più del 35 per cento che non vengono corrisposte durante il tempo sono non vengono non vengono recuperate successivamente con l'effetto con l'effetto memoria barriera allora sì scusami intanto volevo far notare una cosa perché se ci si sofferma su quello 0 15 Antonio si rischia di essere magari di avere una percezione di un prodotto che comunque paghi poco no perché quando lo si legge così 0 15 viene viene questa sensazione però innanzitutto ecco ricordiamo è per ognuno dei tre titoli quindi praticamente la cedola diventa se si rispetta la condizione che è tipica di tutti i certificati ovvero la tenuta della barriera da parte del worst of in tutti i certificati normalmente è così tutti e tre devono stare sopra la barriera del 65 o di dove eventualmente viene piazzata pertanto se rimanessimo su quel tipo di considerazione saremmo comunque a una cedola 0 45 in questo caso invece è modulare quindi per ogni titolo si porta dietro 0 15 ma attenzione ricordate la prima cedola del 12 e 50 infatti ho fatto due conti questo è un prodotto che comunque esprime un rendimento annualizzato di circa il 9 e 50 è corretto io ho fatto adesso conto molto teorico però dovremmo essere comunque intorno a un 9 9 e 50 all'anno complessivo se consideriamo la prima cedola maxi quindi diciamo che ecco questa questo rendimento cedolare mensile successivo va poi naturalmente aggiunto a quello che è la maxi cedola dove la maxi cedola tra l'altro ricordiamo anche che ha una valenza doppia perché oltre ad essere un premio importante che si riceve subito è soprattutto utile per il recupero delle minusvalenze questa è una cosa che hai solo sfiorato ma ricordiamoci sempre che c'è invece un un utilizzo da parte di chi ha minusvalenze in scadenza 2020 proprio di prodotti capaci di pagare dei maxi premi iniziali e pertanto c'è da considerare che questa maxi cedola potrebbe compensare delle minus e quindi rimettere in gioco le minus che stanno eventualmente invece scadendo ecco questo era solo pentato per puntualizzare perché qualcuno aveva notato lo 0 15 lo aveva ritenuto magari un po' basso ecco aggiungiamolo a quegli altri 12 50 o 10 che vengono pagati prima e viene comunque un oltre un 9 per cento annuo certo certo non hai fatto hai fatto benissimo a fare questa questa puntualizzazione chiaramente l'effetto triathlon è vero che di fatto ha un costo nella struttura per cui parliamo di uno 0 15 per sottostante che può diventare diciamo nella condizione standard lo 0 lo 0 45 perché è stato inserito diventa un effetto diciamo per aumentare le probabilità di incassare coupon perché ci si può trovare chiaramente in una situazione in cui soprattutto quando il basket è poco correlato una situazione in cui uno dei sottostanti può trovarsi sotto sotto barriera è vero che è possibile inserire l'effetto l'effetto memoria e quindi successivamente recuperare però chiaramente questa è un'altra come dire un'altra variante sulla sulla cedola sulla cedola mensile che diciamo tipicamente viene offerta nei nei prodotti quindi di fatto di per sé la valutazione va fatta anche in un'ottica di aumento le probabilità di incassare la cedola non ecco infatti antonio non so se avevi ancora bisogno di completare però c'è una domanda che mi incuriosisce molto e che ti vorrei girare quindi dimmi se vuoi che te la leggo subito o che vuoi prima terminare magari il discorso no no va bene dimmi dimmi pure ok no è una domanda che non è ovviamente solo per questa situazione che 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 può essere adatta ma in poi in generale ma ci offre uno spunto per poter parlare di questo tema cioè c'è che dice che differenza c'è con il prendere tre certificati con un unico sottostante se poi comunque conta il worst off chiaramente è una domanda un po' più di base nel utilizzo dei certificati su più titoli però è tutt'altro che è una domanda banale pertanto ti chiederei di 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 chiarire o perché anziché comprare tre certificati uno su engi uno nvidia uno repsol tre diversi ne prendiamo uno solo su tutti e tre ma allora la la risposta la risposta breve è che chiaramente in un basket dove andiamo a guardare il sottostante peggiore rende di più rispetto al prendere tre prodotti separati sui singoli titoli o addirittura anche allargo un po' anche la domanda prendere il prodotto con l'osservazione fatta sul basket equiponderato quindi la risposta è rende di più e chiaramente abbiamo anche profili di rischio totalmente totalmente differenti in che senso nel nel caso nel caso in questione ma andiamo anche oltre il caso il caso in questione parliamo in generale dei basket worst off se io investo in un basket in un basket worst off di fatto mi sto andando esporre al titolo peggiore è un po' come se io volessi comprare potessi mi piacessero tutti e tre i titoli per cui potrei comprarli singolarmente ma li vado a comprare in una logica per cui non so quale sarà il peggiore ma tanto a me piacciono tutti e tre per cui investo facendo così io di fatto assumo un rischio in più perché mi possono piacere questi titoli ma mi posso trovare anche nella situazione in cui mi sono sbagliato per cui appunto il worst off il titolo peggiore si può muovere in una direzione diversa divergente rispetto agli altri questo scenario qui ti offre in termini di rendimento un quello che si chiama un pick up quindi una sorta di di aggiunta di rendimento perché tu ti stai assumendo il rischio che uno almeno uno possa andare possa andare a male ecco il concetto del basket worst off che è una situazione totalmente diversa rispetto a dire compro tre prodotti diversi ciascuno di esso sul singolo titolo e quindi creo una sorta di portafoglio di certificato di certi certificati in questo caso chiaramente il mio rischio non è lo stesso del basket worst off perché è un rischio splittato quindi diviso su tre sottostanti se mi sono sbagliato su uno non mando passatemi il termine a ramengo tutto ma ne manderò soltanto uno soltanto su uno dei tre prodotti andrò andrò a soffrire quindi se immaginiamo uno scenario in cui sono dei prodotti con barriera con barriera con protezione condizionata a scadenza singolarmente quindi stiamo parlando di uno scenario ipotetico un prodotto su enji un prodotto su invidia un prodotto su repsol enji sopra invidia sopra repsol sotto avrò mille mille e barriera 65 repsol a 60 e 600 euro se faccio la media o tra virgolette ammortizzato alleggerito la mia verdita rispetto allo scenario in cui ero su un certificato worst off dove anche se enji invidia erano sopra barriera repsol era sotto per cui sulla totalità del mio capitale io ricevevo i 600 euro il 60 per cento che è ancora diverso rispetto al caso in cui ho un singolo prodotto e ho la media l'osservazione fatta sulla media equiponderata o anche con ponderazioni diverse su questo basket qui siamo un po' nella logica classica di portafoglio per cui se sono decorrelati tanto meglio non è più un fattore di rischio la decorrelazione anzi in un basket equiponderato può essere un fattore positivo perché uno va a compensare la perdita dell'altro per cui se ritorniamo allo scenario che ho ipotizzato prima enji sta sopra invidia sta sopra e repsol sta sotto in un worst off prendo repsol in un tre prodotti diversi andrò a fare la media dei rimborsi che ricevo tra i tre in un basket equiponderato posso trovarmi anche nella situazione in cui il basket equiponderato è sopra barriera per cui il mio capitale interamente è protetto queste considerazioni vanno fatte cioè ho fatto una considerazione da un punto di vista di rischio che chiaramente poi si traduce in rendimento in che senso a maggiore rischio chiaramente corrisponderà maggiore rendimento per cui il basket worst off renderà di più del basket equiponderato e la il portafoglio chiamiamolo così di tre certificati su tre singoli a priori poi chiaramente vanno vanno chiaramente valutati valutati singolarmente mi va a rendere un po' una via una via di mezzo non so se la mia risposta è stata chiara per Paolo chiaramente sì sì naturalmente a mio avviso sì possiamo comunque riassumere in maniera molto molto diciamo provo a sintetizzare ancora meglio e poi naturalmente andiamo avanti e dicendo che tipicamente se io voglio costruire un certificato su un solo titolo chiaramente ho a disposizione il dividendo di quel titolo e la volatilità chiaramente che quel titolo ha e pertanto posso dare un rendimento e una barriera che magari non sono così profondi o un rendimento così alto se voglio pagare di più e in questo caso lo stai facendo perché tu stai dando un nove per cento abbondante annuo con una barriera al sessanta per cento e un meccanismo triathlon purtroppo il singolo titolo non basta devi lavorare sul principio di correlazione appunto dove comanda il peggiore e in questo caso chiaramente come chiedeva Gianluca il fatto di ricorrere al worst off serve allo strutturatore sì esattamente ma non per creare la struttura che diciamo trasferisce la fregatura al cliente che compra no tu dici ti prendi il peggiore e quindi un po' come dire non riesco mai a prendere quelli vanno meglio no serve per abbassare il costo della struttura come ha spiegato Antonio pertanto i certificati di tipo worst off hanno questo meccanismo dove si guarda sempre a peggiore perché le opzioni costano meno più alta è la correlazione cioè tre titoli che vanno insieme nell'ultimo anno hanno più probabilità di continuare ad andare assieme pertanto legarsi al worst off è inutile perché tanto o salgono tutti e tre o scendono tutti e tre se fai invece un certificato e qui Antonio devo dire in tutta onestà come caratterizza sempre la sua massima trasparenza e anche nel raccontare i prodotti lo ha detto subito prodotto caratterizzato da sottostanti con bassa correlazione non so se qualcuno lo ha lo ha notato ha detto certificato dove i sottostanti hanno bassa correlazione cioè fanno tre cose completamente diverse nella vita tra l'altro Gianluca ad esempio ha considerato che invidia in caso di scoppio della bolla i tech potrebbe perdere molto dall'altro c'è chi potrebbe dire Repsol è un petrolifero e continua a soffrire alla fine si prendono tre titoli che non hanno che in comune non hanno una grande correlazione ed ecco che la struttura costa meno all'emittente il fatto di costare meno all'emittente non vuol dire che a Antonio domani si mette in tasca dei soldi ovviamente poi Antonio adesso ma per fare riferimento al rappresentante di Exan ma non naturalmente non struttura personalmente lui o almeno l'idea sì ma poi non è lui lo strutturatore però ecco non è che Exan quindi lo fa per guadagnare di più è perché così può dare effettivamente questo tipo di meccanismo comunque per come vedete ho sintetizzato spero in maniera ancora più più rapida e innanzitutto c'è Nicola che dice bella questa proposta è un'evoluzione appunto di prodotti che più in passato no si erano visti e che devo dire erano piaciuti molto anche gli investitori sai quando è che apprezzi questa struttura triathlon quando inizi a quando ci la acquisti e vedi che uno dei sottostanti comincia ad andare sotto barriera quello è lo scenario in cui nei classici certificati avresti la cedola praticamente in memoria eventualmente ma non la incasseresti mai e soprattutto grazie al meccanismo triathlon il prezzo tende ad essere più sostenuto proprio in virtù del fatto che comunque se anche uno solo dei titoli sta sotto gli altri due sopra la cedola continua a pagarla mi chiede roberto se possiamo parlare dei prezzi cioè nel senso è un prodotto già esistente questo se possiamo vedere i prezzi odierni sì assolutamente quindi basta chiaramente collegarsi al nostro sito inserire il codice ISIN nella barra nella barra della ricerca ed eccolo qua ok quindi praticamente abbiamo un prezzo attualmente sopra la pari questo perché rispetto al livello iniziale sono cresciuti tutti quello che è cresciuto di meno è Repsol con un circa cinque per cento poi oggi forse anche qualcosa in più perché i petroliferi sono saliti e questi sono i prezzi alla chiusura di ieri quindi c'è già un un andamento positivo prezzo un po' sopra la pari per questo primo certificato l'altro invece su l'altro al caratteristiche analoghe a quelle che abbiamo che abbiamo visto sopra cambiano chiaramente due aspetti il primo è il basket worst off che è composto da fiat unicredit e moncler ecco qui siamo su titoli su titoli italiani quindi è vero che fanno tutti e tre cose cose diverse tra di loro però c'è chiaramente il fattore il fattore paese che in un certo senso li li accomuna e offre una maxi cedola un po' più bassa rispetto al precedente parliamo del del dieci per cento per il resto quindi l'effetto triathlon sulle cedole mensili con barriera 65 l'autocall mensile a partire d'aprile e la protezione condizionata a scadenza con la barriera 60 quindi notate anche il diverso livello di barriere tra la cedola e il capitale 65 per la cedola e 60 per il capitale quindi se andiamo a vedere in termini di di prezzo eccolo qua questo come come prezzo ha un anche questo leggermente un po' sopra la pari lo si compra a 1012 e anche in questo caso abbiamo i livelli alla chiusura di ieri in realtà però anche oggi mi sa che hanno continuato un po' un po' la loro corsa eh sopra sopra i livelli sopra i livelli iniziali ok allora Antonio dimmi come ci vogliamo muovere perché ho un po' di domande con qualche prodotto quindi possiamo fare o un giro di domande oppure vediamo prima magari qualche altra emissione che abbiamo individuato che hai preparato e poi ci facciamo il giro di domande dimmi tu come vogliamo fare? Beh vogliamo completiamo magari vediamo un po' il cosa avevate selezionato anche voi e riprendiamo poi le domande che avevamo che avevamo visto. Vai facciamo così allora d'accordo ti dico a questo punto mi prendo un attimo il controllo del monitor così lo faccio vedere direttamente da da Cedlab racconto un paio di idee e che abbiamo selezionato noi e poi ti ripasso il controllo così ci ci fai vedere anche eh qualcosa nel frattempo visto che inizio a parlare io ehm però attenzione allora aspetta prima di fare questo intanto eh scadenza duemilaventitré valida soprattutto sul secondo ci dicono che piace di più tra i due che abbiamo visto anche un po' per il discorso ciclico dei dei titoli e poi la domanda invece che mh sempre riguarda i prodotti se un titolo è sotto la barriera prendo due cedole quindi? Sì per quanto riguarda le cedole se uno è sotto barriera ne prenderai ne prende se ne riceveranno due quindi zero quindici per due. Perfetto. Ok allora io direi di fare così quindi vi faccio vedere le tre idee che abbiamo selezionato sul mercato da parte appunto del nostro ufficio studi di certificati e derivati e e di Cedlab quindi vi faccio vedere queste tre idee poi passiamo alle domande e però ti dicevo mi puoi dare un'occhiata nel frattempo che io parlo a questo certificato Frexa zero zero due uno sette sette sei che è un bonus cap a barriera violata su Uber e intanto che lo guardi perché la domanda è che che ti giro è questa praticamente sembra che sia sulla brochure che sul kid sembra che il rimborso massimo a seguito della fruttura la barriera comunque sia mille e non come avviene normalmente nei bonus che comunque ti rimane la possibilità di seguire linearmente oltre il livello di emissione e quindi in teoria raggiungere anche l'importo bonus ecco tu intanto dai un'occhiata e poi ci dai conferma del funzionamento ok allora nel frattempo invece io vi racconto i tre prodotti che abbiamo individuato noi sul mercato allora il primo è un classico crescendo rendimento tempo che è il nome commerciale che caratterizza quelli che sul mercato in generale noi troviamo anche come Phoenix Memory chiaramente è un marchio di fabbrica questo dei crescendo rendimento tra l'altro ogni tanto lo ricordiamo ma vale la pena soprattutto per chi magari ha un po' di meno storia conosce un po' meno la storia di questo mercato che è stata proprio exan a portare per la prima volta i crescendo rendimento quindi quelli che poi oggi sono trattati da tutti con rilevazioni mensili quindi è giusto chiamarlo crescendo rendimento tempo però non ci spaventiamo perché in realtà è la struttura caratteristica dei cosiddetti Phoenix Memory o Cash Collect Autocall per dare una uniformità sul mercato scadenza 30 marzo 2022 il certificato è legato ai titoli Eni ed Enel quindi un basket anche in questo caso worst off ma comunque più ridotto e tra l'altro con due titoli che purtroppo la correlazione l'hanno un po' persa nell'ultimo anno a causa del fatto che Eni sta soffrendo molto la crisi petrolifera e quindi vedete che le performance sono in questo momento ben differenti Enel più 28 per cento rispetto allo strike iniziale Eni meno 5 e 54 e quindi chi comanda è Eni che infatti è colorata in rosso ed è worst off però c'è da dire che non è così lontana dallo strike iniziale di 7,29 e 30 mentre nonostante la discesa è per ora molto lontana dalla barriera di 3 e 64 e 65 il certificato cosa fa? Paga mensilmente una cedola dello 0,77 il che vuol dire che su base annua superiamo abbondantemente anzi riaggiungiamo in realtà quasi il 9% la cedola viene pagata a condizione che Eni ed Enel entrambi rilevino al di sopra del 50% del livello iniziale il che vuol dire a questi livelli che abbiamo visto qui 3 e 64 e 2 e 94 quindi le cedole sono decisamente al riparo il 21 dicembre 2020 e poi successivamente ogni tre mesi potrà esserci il rimborso anticipato del certificato nella misura del nominale quindi dei mille euro più il premio allora perché ci interessa grazie Gianni che mi fai conti quando 9 e 24 anno allora lo acquistiamo in area mille quindi praticamente si prende sul nominale a mille c'è da dire che anche grazie al fatto che Eni anche oggi è salicchiata più 2,3 è stata 6,88 ecco sicuramente quattro giorni fa si comprava decisamente più basso comunque a mille a questo punto quali sono gli scenari se Eni recupera i sette ventinove e trenta per dicembre il certificato rimborsa a quel punto mille più tre premi dello zero settantasette quindi praticamente siamo a a mille e ventidue eh all'incirca mille e ventitré mille e ventitré virgola uno lo compro a mille quindi è il due e trentuno da qui a fine anno e questo diciamo che forse non è neanche lo scenario migliore perché lo scenario migliore a mio avviso invece sarebbe in questo caso addirittura che non rimborsasse e continui a incassare la cedola perché che che ovviamente se ne possa pensare faccio veramente fatica a immaginarmi stabilmente una Eni sotto tre sessantaquattro dopodiché il mercato ci ha fatto conoscere cose impensabili quest'anno pertanto io cerco di adottare cautela ma credo che questo sia un certificato che se non rimborsasse quasi quasi sarebbe anche meglio proprio perché pagherebbe comunque delle cedole molto alte per avere questi due titoli e solamente due titoli perché questo certificato paga così bene cioè lo zero settantasette al mese con una barriera così profonda solo su due titoli perché è stato emesso il venti marzo duemilaventi cioè quando la volatilità era altissima e ricordiamo anche questo da un punto di vista didattico che quando la volatilità è molto alta le opzioni a barriera costano meno e quindi ecco che Exan è riuscita a cogliere il timing perfetto per quotare questo certificato e metterlo e quotarlo pertanto a nostro avviso fin tanto che Eni non riesce a recuperare questo è un certificato che in portafoglio ci sta proprio bene dopodiché se dovesse rimborsare non è proprio una tragedia voglio dire se poi alla fine facciamo comunque il due per cento da qui a fine anno e poi troviamo un'altra situazione però ecco questa è la prima emissione il codice Aisin è quello che vedete qui Frexa 0024697 quindi se va bene 2,1 da qui a fine anno altrimenti se non rimborsa 077 al mese ovvero 924 come correttamente ci ricordava Gianni secondo certificato qui abbiamo invece sempre emesso a marzo e pertanto anche questo ha sfruttato eh ottimamente la volatilità del momento un certificato crescendo rendimento tempo quindi fin qui è esattamente identico al precedente ma con meccanismo airbag che ormai chi è pratico di certificati si ricorderà insomma è quella opzione che consente di difendere il capitale se si va sotto barriera e quindi diventa un' opzione ulteriormente difensiva se invece non si va sotto barriera si comporta esattamente come gli altri certificato che ha come basket sottostante anche qui solo due titoli dove però il peggiore è Societe General che quota vedete in questo momento a meno 15 per cento circa l'altra è Eni che anche qui fa meno cinque stesso identico strike del precedente certificato che paga lo 0 61 mensile pertanto vedete che paga meno rispetto ad Enel ed Eni perché perché qui c'è questa opzione airbag che ci permette di andare come si può vedere qui a ridurre drasticamente le perdite nel caso in cui uno dei due titoli vada a finire a scadenza sotto la barriera per farla molto semplice e molto breve l'opzione airbag detta anche low strike è un'opzione che permette di calcolare il rimborso a scadenza prendendo come performance del sottostante peggiore non quella rispetto all'emissione quindi non so ipotizziamo che a scadenza Societe General che attualmente il titolo peggiore vedete quota 12 56 e 80 chiuda a meno 50% rispetto ad oggi quindi già stiamo ipotizzando che da oggi perda un ulteriore 50% chiude a 6 e 28 questo 6 e 28 rispetto allo strike iniziale di 14,66 faremmo questo tipo di conto 6,28 su 14,66 sarebbe un rimborso di 42 e 8 cioè 428 euro su 1000 questo nei certificati classici dal momento che invece abbiamo l'opzione airbag si considera la performance finale rispetto alla barriera quindi per capire il nostro rimborso faremo 6,28 che è l'ipotetico valore finale di Sogen rispetto ai 7,33 e 30 ed ecco quindi che viene un rimborso di 856 e 95 vuol dire quindi che stesso Sede General perde da oggi il 50% e rimane il titolo peggiore noi perdiamo solamente il 14% ecco il meccanismo airbag perché piace molto perché vedete che va ad aiutare se si finisce sotto barriere che sono già di per sé molto profonde in più è un certificato che paga uno zero sessantuno al mese quindi su base annua siamo comunque oltre il 7,20 7,32 dovrebbe essere a memoria quindi altro certificato al nostro avviso interessante anche questo si compra sulla pari quindi sulla sul nominale 997,40 molto interessante perché grazie al meccanismo airbag difende molto la anche la quotazione scadenza 30 marzo 2022 quindi anche decisamente vicina se pensiamo che in realtà stiamo parlando di un anno e mezzo per continuare ad incassare cedole mensili dello zero sessantuno l'ultimo certificato che vi faccio vedere e poi passiamo nuovamente ad Antonio e alle eventuali domande cioè le domande che ci sono già un altro crescendo rendimento tempo in questo caso classico senza meccanismo airbag emesso prima della crisi covid quindi il 23 gennaio 2020 scadenza febbraio 2023 in questo caso il basket sottostante è a tre titoli e sono tre titoli però tutto sommato ben correlati lo sapevamo lo potevamo immaginare perché appastengono allo stesso settore del lusso lo potevamo immaginare guardando un grafico ne stiamo avendo la conferma oggi a distanza di otto mesi praticamente dall'emissione con il covid di mezzo vedete praticamente hanno fatto tutti e tre lo stesso percorso al netto di uno o due punti percentuali il certificato paga lo zero settantaquattro al mese con barriera un po' più alta rispetto alle precedenti perché è stato emesso come dicevamo a gennaio quindi al settantacinque per cento ma finora le ha pagate regolarmente tutte e in più ha questa caratteristica il ventuno ottobre potrebbe rimborsare anticipatamente i mille euro più la cedola a patto che tutti e tre i titoli si trovino almeno a livello di partenza quindi servirebbe un recupero da parte di tutti e tre minimo per Ferrari un po' di più per caring e per Louis Vuitton se però non ci si riesce adesso a ottobre neanche a novembre a dicembre a gennaio vedete che il trigger per il rimborso anticipato scende del cinque per cento e quindi ecco che l'opzione di rimborso anticipato sarebbe soddisfatta a partire da gennaio sulla base dei prezzi attuali e così via di semestre in semestre pertanto questo è un certificato che chiaramente aiuta molto anche avendo una prospettiva meno positiva sul sottostante e sui sottostanti prezzo novecento ottantatré e novanta ecco queste sono le tre idee che abbiamo selezionato a nostro avviso tutte e tre interessanti allo stesso modo l'airbag chiaramente perché è molto difensivo e come ci chiede Franco l'airbag vale anche se tutti i titoli del basket vanno sotto barriera sì naturalmente sì ne basta uno ma anche se ci vanno tutti e tre si prende comunque quello con la performance peggiore dei tre per calcolare l'importo di rimborso nel caso dell'airbag che avevamo appena visto in realtà dei due perché il basket era composto solo da due titoli ma comunque in generale vale per tutti quindi airbag molto difensivo l'ultimo che abbiamo visto ben correlato con titoli appunto dello stesso settore per un diciamo una trigger decrescente e il primo solamente l'aising del primo mi chiede Giuliano che è arrivato tardi ed è questo su Eni ed Enel che potrebbe pagare ancora probabilmente per un po' di tempo lo 077 al mese l'aising Frexa 0024697 Daniele grazie dice tre bellissimi certificati sono contento che che eh siano stati apprezzati ecco visto che Daniele appunto adesso ha scritto questo mi riaggancio aveva fatto una domanda che ti giro subito Antonio allora Daniele aveva chiesto prima ehm eh ha a che fare chiaramente con anche con i clienti presenti certificati quindi eh nel dettaglio ascolta anche un po' le reazioni dei clienti stessi dice gli investitori sono altratti dalle opzioni che aumentano le probabilità di avere rimborsi del nominale quindi praticamente dice preferiscono magari qualcosa di più difensivo e quindi chiede ad esempio l'effetto relief se sono in progetto nuove emissioni non so se innanzitutto se progetto e se vuoi approfittare magari per a questo punto se c'è qualcosa di interessante per parlarne ti assegno il monitor intanto eh certo certo no grazie grazie mille per la per la domanda effettivamente l'effetto l'effetto relief eh è stata una novità abbastanza abbastanza direi interessante che abbiamo che abbiamo portato sul sul mercato sul mercato italiano e poi adesso magari andiamo a vedere anche qualche esempio dove proprio sta 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 giocando un ruolo un ruolo abbastanza abbastanza interessante nella diciamo nel market del prodotto eh nel prossimo nel futuro in realtà noi le le emissioni diciamo cerchiamo di eh come dire di di adattarle un po' al al contesto di mercato cercando di fare un po' di come dire di di ottimizzazione in un certo senso rispetto eh rispetto a quello che è il che è il contesto quindi comunque eh in un anno con forti con forti con forti ribassi che comunque abbiamo che abbiamo che abbiamo subito eh comunque volatilità molto molto elevate eh adesso stiamo abbiamo cercato con le ultime emissioni l'avete visto anche di offrire eh prodotti con eh oltre l'effetto l'effetto maxi cedola diciamo la maxi cedola cercare anche di 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 avere di guardare più alla parte alla parte del rendimento ma chiaramente questo non esclude la la possibilità di poterli di poterli lanciare eh non dico nel futuro breve ma comunque di tenerlo di tenerlo in considerazione. Detto ciò ad oggi a mercato abbiamo diversi prodotti che presentano questo eh questo questo effetto e prendo ne prendo proviamo a prendere questo qua ad esempio per giusto per colgo colgo l'occasione giusto per presentare per presentare l'effetto l'effetto relief di per sé perché perché è molto molto interessante in questo caso eh nell'esempio nell'esempio che stiamo guardando il basket il sottostante è un basket worst off composto da intesa unicredit e società general eh presenta offre una cedola dell'otto pericola sette scusate dello zero ottantasette per cento al mese quindi otto euro e settanta al mese con la barriera a sessantacinque e l'effetto memoria sulla cedola presenta eh la possibilità di rimborso anticipato con barriere di rimborso anticipato decrescenti nel corso nel corso del tempo ma appunto la particolarità sta nell'effetto nell'effetto relief e chiaramente come è stato come è stato accennato è un effetto che va a eh come dire aumentare la la probabilità diciamo di eh di di protezione del capitale a scadenza in che senso oltre chiaramente alla barriera classica del barriera classica europea posta al sessanta per cento del livello del livello iniziale tale per cui se tutti i sottostanti sono sopra barriera si ricevono si ricevono i mille euro c'è anche un altro caso in cui si continuano a ricevere i mille euro che è il caso in cui vi è soltanto un titolo tra i tre indicati solo uno sotto barriera e qui sta la novità perché nei prodotti standard su basket worst off chiaramente se hai un titolo sotto barriera hai anche la perdita sul sul capitale la barriera viene viene infranta a scadenza per cui si riceverà la performance del del titolo peggiore con l'effetto relief in buona sostanza sia buona il primo titolo il primo titolo che va sotto barriera per cui se siamo in uno scenario a scadenza in cui abbiamo due titoli sopra la barriera e uno sotto si continuano a ricevere i mille euro qual è lo scenario in cui diciamo si inizia a si inizia a perdere sul sul capitale e lo scenario in cui ne hai almeno due sotto barriera perché fino a uno hai l'effetto relief se se ne aggiunge anche un altro o tutti e tre chiaramente l'effetto relief non vale non vale più e si è legati all'effetto 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 worst off questo effetto qui lo si può chiaramente vedere anche un po riflesso riflesso nei prezzi vediamo ad esempio che in questo basket che ho preso a puro titolo esemplificativo abbiamo che vediamo che il titolo peggiore è sto si de general che perde il 52 per cento rispetto al livello iniziale prodotti che sono stati lanciati a novembre a settembre dello scorso anno per cui in una fase largamente anti anti covid e con un con il worst off che perde il 52 per cento e che quindi si trova sotto barriera il mark to market del certificato rimane comunque sostenuto perché perché se questo fosse lo scenario a scadenza con società general con inter san paolo che perde il 23 per cento social n che perde 52 e unicredit che perde il 34 abbiamo due titoli sopra barriera intese unicredit e social n che invece sotto se fosse stato un crescendo rendimento memory standard si si riceverebbe la performance di di società general per cui un rimborso pari a 480 euro nel caso invece in questione essendo un prodotto relief il rimborso sarà pari a 1000 euro perché perché l'effetto relief ti salva tra virgolette fino a un sottostante ribadisco solo un sottostante sotto barriera se invece fosse più di un sottostante quindi ipotizziamo che anche unicredit si trova saldi sotto della barriera o intesa in quel caso invece si riceverebbe comunque la performance del 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 worst off ecco comunque vediamo come ci arriviamo perché naturalmente ne avete messi più di uno e quindi direttamente dal sito nel ecco allora in alto avete la sezione soluzioni di investimento cliccate sopra poi scorrete la pagina sulla sinistra avete diciamo nella categoria nella macro categoria che abbiamo preso a prestito da cepi dei certificati a capitale condizionatamente protetto trovate oltre a dei bonus cap e quindi così poi rispondiamo alla domanda sul prodotto su uber e trovate anche tutta la gamma dei crescendo se scorrete la pagina tra i vari di effetti e varianti che abbiamo emesso trovate anche l'effetto relief cliccandoci sopra trovate tutte le emissioni in relief attualmente presenti sul mercato se cliccate sul codice Aisin ve li ordina per Aisin decrescente in modo tale da avere per prima le ultime le emissioni sono stati emessi il primo è stato emesso questo qui Ford General Motors e Tesla è stato emesso sì sono stati emessi più o meno tutti intorno intorno a settembre dell'anno dell'anno precedente bene allora dici qualcosa prova sul bonus cap sul bonus cap su uber lo riprendo uber su bonus cap su uber confermo il il meccanismo del prodotto che era stato messo in evidenza in questo caso appunto la barriera è una barriera americana per cui barriera che è stata che è stata infranta da uber nel spiacevolissimo periodo fondamentalmente legato 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 alla crisi del covid e la particolarità di questo è che se la barriera viene infranta quando la barriera viene infranta a scadenza il rimborso massimo che si ottiene è pari a mille euro quindi di fatto si si rinuncia al 27 90 di eh di upside massimo che invece sarebbe stato corrisposto nel caso in cui la barriera eh non fosse stata non fosse stata violata eh ci tengo solo a ribadire che questa è un'emissione specifica fatta in per un per un cliente quindi in private placement con il eh successivo il successivo listing sull'euro TLX quindi sono chiaramente quindi diciamo che funziona in maniera diversa rispetto ai classici bonus cap perché l'investitore che l'aveva in qualche modo richiesto ha accettato che funzionasse così quindi evidentemente non perfetto quindi chiariamo e hai fatto benissimo perché giustamente sono d'accordo tra l'altro eh tra noi stessi in Cedlab credo che in questo momento ce l'abbiamo con la possibilità di poter replicare fino a mille duecentosettantanove quindi hai fatto bene a sottolineare che rispetto a quelli che sono i certificati bonus normali questo funziona in maniera diversa proprio perché era stato pensato su specifica richiesta bene e allora dunque vediamo un po' abbiamo un po' di di domande io direi per per rispetto a chi ha scritto prima partiamo dall'alto innanzitutto Maurizio aveva chiesto un tracker sull'idrogeno eh sì credo Frexa 00 278 ah eccolo qua perfetto ci chiede se si può avere delucidazioni sul funzionamento e sui costi certo allora eh si tratta di un di un prodotto che è stato oggetto di di offerta pubblica per cui c'è stato un collocatore eh che l'ha che l'ha collocato in fase in fase di primario eh si tratta appunto di un tracker certificate quindi in questo caso non abbiamo cedole non abbiamo rimborso anticipato non abbiamo protezione a scadenza il funzionamento è quello appunto di una replica di un replicante del sottostante e il sottostante è composto da un basket azionario di 40 titoli eh come dicevo un'introduzione è un prodotto che è stato appunto eh studiato per un per un collocatore quindi a differenza di tutti gli altri prodotti che abbiamo visto finora che vanno in direct listing ovvero sono delle emissioni che non hanno una fase di eh una fase di primario ma vanno direttamente sul mercato secondario e messi a disposizione di eh consulenti finanziari e investitori in questo caso invece è un'emissione come dire dedicata per un per un collocatore ha avuto una fase di primario e adesso è negoziabile sul mercato eh secondario eh si tratta appunto dicevo di un basket di 40 titoli 40 titoli che sono stati individuati eh come titoli potenzialmente esposti eh a una tematica abbastanza attuale che è quella legata un po' all'idrogeno come nuova fonte di energia c'è stato anche un paper pubblicato anche a livello di unione di unione europea che ne che ne illustrava un po' eh le linee guida e gli obiettivi verso il futuro di renderlo diciamo una eh una 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 nuova fonte una fonte una nuova fonte di energia abbinato a questo anche il tema del dell'elettrico che è sicuramente attuale che rientra nel green new deal a livello sempre a livello europeo a livello di costi il il certificato quindi replica il basket del il basket che vi ho detto dei 40 titoli al netto appunto di un costo totale complessivo dell'un per cento per anno quindi funzionamento un po' come come avviene sui sui fondi sugli etf quindi un costo eh un costo proporzionale eh totale dell'un per cento e e inoltre il il prodotto presenta anche sempre a livello di costo un over performance fee eh del basket rispetto all'MCI World eh in euro che viene calcolata su base annuale e che va a ridurre il il livello del certificato eh il livello del certificato eh su base su base annuale over performance fee del dieci per cento sul differenziale di performance tra il basket e il eh l'indice l'indice di riferimento che è stato scelto appunto l'MCI World. Ok bene allora poi c'è un'altra domanda invece che è da parte di Michele che chiede ho in portafoglio un certificato quale consiglio? Allora io nel frattempo mi sono studiato qualcosa quindi mi riprendo velocemente un attimo il monito e poi te lo ripasso. Allora il certificato in questione li voglio far vedere per dare un'idea di quello che si può fare eh con alcuni certificati allora il certificato che Michele ha in portafoglio è questo crescendo rendimento tempo multibarrier eh Frexa zero zero diciannove otto sei uno scadenza settembre duemilaventidue titoli Eni e Intesa San Paolo dove in questo caso abbiamo Eni eh con barriera nove quarantacinque ottantotto e Intesa San Paolo barriera uno quaranta e settantanove confermi Antonio il multibarrier comunque perché poi mi stava venendo in mente non è quello con le barriere diverse no? Sì allora se eh se ricordo bene il eh infatti perché adesso mi stava venendo in mente il dubbio che esiste esiste questa eh caratteristica anche di certificati con due barriere posizionate a livelli diversi vediamo un in questo caso in questo caso praticamente su ciascuno al posto tipicamente nei certificati viene stabilita un'unica barriera posta non so al sessanta per cento eh ed è vale e vale per il sessanta per cento che vale per tutti i titoli presenti eh nel nel basket nel multibarrier invece vengono eh si guarda sempre il worst off ok però ciascun titolo a livelli di barriera differenti per cui Intesa San Paolo aveva barriera cedola pari al sessantacinque per cento mentre Eni ha una barriera pari al settantacinque per cento del suo livello iniziale la barriera sul capitale invece è cinquantacinque per cento su Intesa e sessantacinque per cento su eh su Eni vale sempre il concetto del worst off che cosa significa che il peggiore deve essere superiore rispetto alla sua barriera. Ecco questo questa è un'altra particolarità vedi che poi mh durante i webinar proprio le segnalazioni ci fanno scoprire anche situazioni diverse quindi quindi a maggior ragione qui abbiamo una barriera che su che poi all'emissione avevate giustamente pensato di mettere quella su Intesa più bassa rispetto a quella su Eni e poi invece all'atto pratico purtroppo quella che sta performando decisamente peggio è proprio Eni. Allora comunque dato il momento che è proprio Eni il peggiore guardiamo a questa quindi Intesa in realtà la barriera non sarebbe neanche una quaranta e settantanove sarebbe una diciannove quindi ancora più profonda pertanto in questo momento è quello che preoccupa meno. Quello che preoccupa di più è Eni barriera nove quarantacinque ottantotto attualmente sei ottantotto quindi siamo al quarantasette virgola ventotto del livello iniziale pertanto le cedole abbiamo smesso di incassarle e se scadesse oggi il certificato rimborserebbe quello che vedi qua Michele ovvero quattrocentosettantadue virgola settantanove quindi sei in questo momento investito su Eni come se avessi l'azione in mano senza però ricevere il dividendo. Allora il consiglio che ti posso dare e quindi naturalmente mi spingo io a dare una un'idea è chiaro che la scadenza in teoria è ancora lontana perché sono due anni o poco meno da oggi e la barriera non è che sia proprio lontana anni luce su Eni una risoluzione della crisi covid con ripresa della dei consumi e della domanda di petrolio potrebbe riportare Eni tranquillamente al di sopra dei nove e quarantacinque però certo non è che è proprio vicinissima ci vuole da oggi comunque un rialzo superiore al trentacinque per cento abbondante e siamo come dicevo lineari cioè vuol dire che la quotazione attuale di quattrocentocinquanta corrisponde più o meno ai quattrocentosettantadue di rimborso del certificato. Cosa fare? Allora quando ci si trova in queste situazioni con i prezzi in questo momento molto sacrificati e scadenza non vicinissima ma neanche così lontana si può provare a guardare all'interno dell'offerta cosa c'è sul mercato più o meno con questo prezzo ma con scadenza più lontana cioè quello che è un po' una delle regole che abbiamo individuato in pieno covid per fare le operazioni di cosiddetto switch to recovery cioè provare a parità di prezzo più o meno a garantirsi maggiori probabilità. Io mentre Antonio prima parlava dei maxi coupon dei maxi cedola ho dato un'occhiata e ho trovato questo dopodiché non per forza deve essere lo strumento su cui andrai a fare questo switch ma intanto è un'idea. Allora questo è un certificato che come vedi è in area 480 quindi tu venderesti a 450 ci perdi qualcosina nello switch. Scade ottobre 2024 quindi scade due anni dopo e questo è uno dei segreti per i quali si riesce a fare uno switch profittevole allungare la scadenza perché allungando la scadenza il certificato quota meno in virtù del fatto che stima più dividendi sui sottostanti legge una volatilità differente e quindi 11 ottobre 2024. Il sottostante è ugualmente legato al settore del petrolio non è Eni ma comunque Royal Dutch, Exxon Mobile e Total dove la peggiore in questo caso è proprio Royal Dutch. La differenza rispetto a quello su Eni però qual è? E che Total è al di sopra della barriera direi ancora di un bel po', Exxon magari non tantissimo, Royal Dutch è sotto barriera ma la barriera è a 12 e 95 il che vuol dire che comunque basterebbe un rialzo di circa il 10 per cento poco più quindi 13 per cento per recuperare questa barriera a confronto del 35 per cento che serve ad Eni. In più mentre lì le cedole non si incassano qui le cedole sarebbero recuperabili dal momento che sono con effetto memoria al recupero del 50 per cento del livello iniziale quindi quello che hai tu ha la barriera cedola a 75 e attualmente Eni sta a 47 quindi deve viaggiare per recuperarla. Qui hai barriera cedola a 50 e il peggiore che sta a 43 che è appunto Royal Dutch. L'analisi di scenario evidenzia però proprio in virtù del fatto che ci sono più probabilità di arrivare a scadenza con la protezione del capitale evidenza un premio quindi a parità di sottostante il rimborso sarebbe inferiore a quello che paghi. Quindi non dico che è proprio uno switch da fare di corsa però potresti valutarlo dal momento che guadagni tempo e in questo momento secondo me sul settore petrolifero guadagnare due anni di tempo non è una cattiva idea proprio perché se anche il covid non ci dovesse abbandonare per il 2021 spero poi che quantomeno si arrivi alla insomma creazione di un vaccino di una cura eccetera eccetera quindi scadenza 2024 a prescindere che poi che questo ti piaccia o meno dopodiché puoi cercare sul mercato se ci sono cose che magari ti piacciono di più però l'idea è proprio questa a parità più o meno di prezzo quindi 4 e 50 su 4 e 70 4 e 80 allunghi la scadenza il settore rimane lo stesso guadagni tempo e abbassi la barriera che anziché essere lontana il 35 40 per cento in questo caso è distante decisamente meno quindi questo è un po' quello che mi sento di consigliarti Michele poi andiamo avanti Antonio poi dobbiamo naturalmente concludere quindi ti leggo rapidamente innanzitutto anche non ti do l'aisin però ci chiede Attilio come mai su qualche certificato c'è uno spread un po' più largo in particolare quello che stavo vedendo che aveva segnalato è su anche qui titoli petroliferi c'è uno spread che anziché essere il classico 10 euro e di 20 euro quindi spieghiamo perché a volte può capitare che ci siano degli spread magari un po' più larghi su qualche certificato allora può allora può ci possono essere delle situazioni soprattutto quando i titoli sono hanno infranto ampiamente la barriera e quindi si trovano su livelli abbastanza abbastanza bassi per cui le opzioni sottostanti risultano a loro volta a poco liquide o comunque presentano bid offer più 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 elevati allora in quel caso il market maker può diciamo si trova un po' costretto a mostrare dei bid offer più più larghi tra l'altro proprio stamattina stavamo stavamo facendo un po' una una review dei vari prodotti presenti sul 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 mercato per cui stiamo 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 diciamo cercando di ripristinare in alcuni casi le situazioni di bid offer standard dell'un dell'un per cento diciamo che è stato è un po' un retaggio della della situazione che abbiamo vissuto eh prima dell'estate a marzo durante eh durante durante la diciamo durante il picco della della crisi dove i bid offer erano molto eh molto molto più larghi per cui magari siamo stati un po' lenti ammetto faccio me a me a culpa però progressivamente stiamo cercando di eh ove possibile ripristinare le eh le situazioni di bid offer all'un per cento quindi al rispetto calcolato rispetto al livello al livello nominale quindi canonici eh dieci euro. Ok poi c'è Alberto invece che mi chiede se ci possiamo se possiamo dare la nostra impressione su questo certificato che ho già aperto che è qui e devo dire che vedi proprio anche da segnalazioni perciò questi webinar secondo me sono sempre eh utili perché anche o arrivano segnalazioni da parte di chi poi i prodotti li vive e devo dire che è veramente un bel certificato eh inizio subito a dire la mia. Allora crescendo rendimento tempo quindi struttura classica certificato che scadrà il due novembre duemila ventidue emesso ottobre duemila diciannove il basket a mio avviso è un bel basket perché comunque è un settore che eh ha dimostrato tutto sommato di soffrire sì come tutto eh la crisi che c'è stata a marzo ma anche di essere capace di di essere più difensivo quindi ci sono dei titoli che storicamente si comportano un po' meglio quindi Coca-Cola, Unilever, Nestlé, Procter & Gamble pertanto non abbiamo la classica tecnologia, non abbiamo bancari, non abbiamo petroliferi puri, insomma è è un bel basket quindi devo dire che mi piace molto come come soluzione e questo è un certificato che paga mensilmente zero quarantadue e proprio in virtù del fatto che non è un basket tecnologico bancario petrolifero rispetto a quelli che abbiamo visto prima paga di meno con un trigger cedro dal settantacinque per cento ma a gennaio potrebbe iniziare già le osservazioni cioè potrebbe già rimborsare anticipatamente le osservazioni come vedete partono dal ventidue gennaio con trigger al cento per cento. Curioso e a mio avviso interessante il fatto che nonostante la distanza dal livello iniziale per Coca-Cola e Unilever non sia così importante il certificato quota in questo momento novecento dodici e quarantadue quindi un prezzo che darebbe un rendimento potenziale oltre che quello della cedola zero quarantadue anche un bello otto per cento abbondante in conto capitale quindi devo dire una bella emissione Antonio tu hai qualcosa da aggiungere? Anche diciamo questa emissione dell'anno dell'anno scorso in virtù appunto della natura più difensiva dei titoli avete avrete notato che appunto un basket di quattro di solito siamo abituati a vedere il basket il basket di tre si tratta invece di un basket di quattro però diciamo si tratta un po' di titoli che nel panorama poi del mercato tra le nostre emissioni ma mi spingo anche diciamo a fare un confronto così molto 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 spannometrico con con cosa si trova sul mercato può diventare diversificante nel senso che come giustamente dicevi tu non ci sono tecnologici non ci sono bancari non ci sono utilities non c'è non c'è oil and gas sono settori che diciamo tutto sommato anche durante durante la fase più più acuta della 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 crisi in un certo senso hanno tenuto hanno tenuto abbastanza bene essendo diciamo legati anche ai consumi esatto no ma infatti che poi se ne parla appunto anche della ripresa un po' del settore dei consumi se poi ovviamente si riuscisse a risolvere ripeto questa crisi sarebbe anche un settore destinato a camminare ma nonostante questo vediamo che si è tutto sommato difeso abbastanza bene tra l'altro in più di qualche webinar ci sono interventi che segnalano proprio la necessità di avere emissioni differenti e ovvero che possano investire su settori che non sono i classici e devo dire che questa è una bella segnalazione quindi ringraziamo alberto per avercela fatta notare e concludiamo ti leggo proprio la domanda alla sminut ci sono un po' di ringraziamenti per il fatto di aver risposto alle domande e Antonio ci chiede se ci sono certificati sulla lira turca ma mi sembra che l'avevate qualcosa ma non mi ricordo se c'è ancora o comunque allora ne è rimasto soltanto uno ma è in bidonli quindi direi che non non abbiamo l'offerta diciamo Antonio che non parlo Antonio te, Antonio il nostro ascoltatore che la lira turca rende difficile anche la costruzione dei prodotti che possano avere una validità per più di qualche settimana perché magari anche la vuoi essere messo sei mesi fa si troverebbe praticamente già oggi in crisi con barriera pertanto non è facile costruirli perché la liquidità sulle opzioni sulla lira turca sta diventando sempre più rarefatta e poi ecco quelli che invece c'erano sono la maggior parte in bid only qualcosa ovviamente si può anche provare a fare ma in questo caso non c'è. Va bene allora Antonio io direi che siamo arrivati in conclusione ti lascio naturalmente l'ultimo la parola per gli saluti per eventualmente per gli appuntamenti e ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato. Certamente grazie grazie mille Pierpaolo per 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 questi appuntamenti che ormai siamo se non sbaglio al settimo di quest'anno quindi ce ne rimangono da calendario ancora ancora due da 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 fare da fare insieme e sono come hai detto tu prima delle occasioni abbastanza almeno dal mio dal nostro punto di vista abbastanza interessanti al di là di come dire presentare un po' la nostra offerta al mondo degli investitori italiani ma anche diciamo la seconda parte io la reputo quella più interessante quella appunto dove ci sono le domande dove si vede anche si sente il mercato cosa 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 viene osservato i spunti diciamo di riflessione che ci sono stati stasera per cui ringrazio anche tutti i partecipanti che che ci hanno che ci hanno seguito tutti coloro che ci hanno posto posto le domande e in ogni caso come stai come stai mostrando tu per qualsiasi dubbio per qualsiasi domanda o chiarimento potete o scriverci una mail o anche chiamarci contattarci telefonicamente ai numeri e all'indirizzo email che trovate nella sezione nella sezione contattaci del nostro del nostro sito web bene grazie Antonio un caro saluto a tutti e alla prossima buona serata buona serata a voi grazie per paolo